dovete saper distinguere cerchio esseno attraverso nt a cura di elio paoloni amedeo badate bene dovete sapere distinguere sempre tra religione e religiosità abbiamo già in passato affermato questo ma è bene ribadirlo la religione è la forma che l'essere incarnato segue o che gli è imposta per forme sociali e per ideologie elaborate nel tempo ma non sempre esatte e giuste la religiosità invece è il sentimento intimo che ogni singolo individuo ha in sé che a volte viene espresso in forme esteriori la cosa più importante è che questo sentimento sia appannaggio personale sia un tesoro intimo da coltivare non ha importanza poi figli cari se da questo intimo sentire dovesse nascere una qualche ideologia sociale indicare in un solo dio o in più dei l'espressione di questo sentimento ciò che conta è che ogni essere incarnato sappia sentire che c'è qualcosa che lo trascende qualcosa a cui deve rivolgere il proprio pensiero poi necessariamente per vostra specifica esigenza come esseri umani voi siete in un certo senso costretti a dare attributi a coniare nomi per questo dio ma ricordate l'ente supremo non ha nome l'ente supremo permea tutto è in tutto e tutto è voi e noi essendo scintille individualizzate che dovremo alla fine del nostro cammino tornare al dio tutto dobbiamo sentire interiormente il senso religioso di questo intimo sentire